Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Parliamo di cronaca con un incidente sul lavoro fortunatamente senza gravi conseguenze. Non versa infatti in condizioni gravi l'operaio di 47 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Cortona. L'incidente è avvenuto nel centro storico della città etrusca dove l'uomo dipendente di una ditta edile era impegnato in un cantiere. I mezzi di soccorso del 118 della ASL Toscana sud-est erano intervenuti alle 9.35 sul posto con un'ambulanza della misericordia di Cortona, i carabinieri di Cortona e i vigili del fuoco. L'uomo era stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 in codice rosso all'ospedale Lescotte di Siena. Fatti dovuti controlli è stato riscontrato un quadro clinico meno grave del previsto, tanto da essere dimesso in serata. Ancora cronaca, adesso spostiamoci ad Arezzo perché c'è stata ancora una rissa nel fine settimana. Ci racconta tutto in questo servizio Grata Settimelli. Una rissa alle prime luci dell'alba in una traversa di via Calamandrei ad Arezzo è accaduta domenica 25 giugno. I feriti sarebbero più di uno, quello più grave, un 24enne, questa l'età dichiarata, con ferite da taglio, che è entrato e uscito dal pronto soccorso più volte. L'allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca e la polizia. Il 24enne, una volta trasportato in ospedale in codice giallo per essere curato, ha lasciato il nosocomio spontaneamente. Poi vi ha fatto accesso una seconda volta ed è stato allora che avrebbe aggredito verbalmente e con uno sputo gli operatori sanitari. Nessun danno però all'interno del pronto soccorso. Poi si è di nuovo allontanato. Alla fine, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine, è stato riaccompagnato in pronto soccorso per essere curato. Nella zona dove è accaduta la rissa, le nostre telecamere sono arrivate intorno alle 10 del mattino. A quanto pare, qui, è consuetudine ogni domenica mattina dover ripulire il piazzale da cicche, bottiglie e bicchieri. Bevono in continuazione la birra, cognac e tutta roba, whisky, sia le bottiglie al giro. Sul caso procede la squadra mobile di Arezzo. IT Alert, questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it alert.it e compila il questionario. È questo il testo del messaggio che verrà inviato il 28 giugno alle ore 12 sul telefono cellulare di tutti i cittadini della Toscana. Parte infatti proprio da questa regione la sperimentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l'Italia per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Per ricevere il messaggio sarà necessario solo avere il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile. E questa mattina c'è stata la visita del presidente della regione Eugenio Gianni allo stabilimento di impresa Pizzarotti di Lucignano dove è già iniziata la produzione dei conci per il passante dell'alta velocità di Firenze. Vediamo quello che è il lavoro preventivo ovvero i conci che faranno dal rivestimento del tunnel che per 7 chilometri passerà sotto Firenze. Quella che vedete alle mie spalle è la produzione dei conci per il passante dell'alta velocità di Firenze a produrli infatti è un'azienda della provincia di Arezzo che si trova a Lucignano. Il tunnel con la stazione progettata dall'architetto Foster costituisce sicuramente l'intervento più rilevante da un punto di vista economico e infrastrutturale che la città di Firenze e la regione toscana abbiano avuto dal dopoguerra. I conci sono gli elementi in calcestruzzo che attraverso la talpa meccanica saranno assemblati per formare gli anelli di rivestimento della galleria. Sono esattamente indispensabili. Il tunnel viene scavato e anziché essere gettato un calcestruzzo a completare la volta vengono posizionati questi conci prefabbricati per cui ogni pila che voi vedete è quasi interamente un anello. Mi manca la chiave che viene prodotta e stoccata separatamente. A luglio l'inizio dello scavo. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a completare l'intera opera quindi sia lo scavo delle gallerie che la realizzazione della stazione entro il 2028. Le terre proventi dagli scavi verranno trasportate in treno e riutilizzate per la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di un'ex cava di legnite a Cavriglia. Quelle miniere che oggi sono rimaste a cielo aperto potranno avere dalla terra che quel tunnel genererà la possibilità di essere mitigate. E oggi nel corso del Consiglio Provinciale di Arezzo la consigliera della Lega Cinzia Santoni eletta nel gruppo del centrodestra Comuni per la Provincia ha annunciato di essersi autosospesa dal suo partito per non stare all'opposizione del Presidente Polcrima mantenendo la coalizione unita. La consigliera adesso rischia l'espulsione dal partito. Intanto erano assenti anche i cinque consiglieri del centrosinistra. E adesso cambiamo argomento all'ospedale San Donato un focus sul tumore al polmone e sui gomme i gruppi oncologici multidisciplinari composti di professionisti. Il servizio. Un focus sul tumore al polmone e sui gomme ovvero i gruppi oncologici multidisciplinari composti da professionisti che grazie ad un lavoro di confronto riescono a fornire la cura migliore al paziente. La terapia del tumore al polmone è cambiata negli ultimi dieci anni siamo passati dalla sola chemioterapia per le fasi avanzate a farmaci biologici mirati, a cure personalizzate che riattivano il sistema immunitario o che vanno a colpire quei recettori che sono iperattivati dal tumore del polmone e li vanno a spegnere. La prognosi. Chiaramente parliamo di situazioni che non sono generalizzate ma ogni paziente viene valutato dal punto di vista molecolare e viene pensato a una terapia specifica. Siamo passati a una prognosi, una malattia avanzata di pochi mesi che nei casi in cui ci siano determinate mutazioni del tumore e quelle per cui abbiamo farmaci a disposizione la prognosi di un paziente con malattia avanzata è passata da alcuni mesi a qualche anno. L'iniziativa è stata anche un'occasione per coinvolgere pazienti ed associazioni che si occupano di questa patologia che hanno potuto partecipare anche grazie al supporto della fondazione CESALPINO. In questa giornata noi ovviamente ci incontriamo come professionisti che lavorano fianco a fianco uniti in questo tipo di patologia per discutere gli aspetti organizzativi, le novità, la possibilità di offrire una risposta sempre più efficace con terapie più specifiche, più personalizzate a questi nostri pazienti. In più ovviamente in questo tipo di attività di squadra sono coinvolte anche le associazioni dei pazienti che sono rappresentative di questo tipo di problematica e ad Arezzo ne abbiamo anche la fondazione CESALPINO che è un volano dal punto di vista della diffusione di questi contenuti sia scientifici che sociali. E torna il Consiglio Comunale di Arezzo giovedì 29 giugno a partire dalle ore 9 con la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla home page del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune per quanto riguarda il programma dei lavori dopo le interrogazioni seguiranno sette pratiche urbanistiche quattro concernenti il patrimonio comunale la costituzione di una comunità energetica il regolamento per la consulta dei giovani la modifica del regolamento sui CAS e la proposta quest'ultima di iniziativa popolare e anche nove atti di indirizzo. E adesso andiamo a San Zeno dove si aggiunge un nuovo tassello del progetto di riconversione dell'impianto AISA di San Zeno che è stato inaugurato questa mattina il digestore anaerobico. Il biodigestore di testata è quella parte dell'impianto che va a estrarre il biometano dalla raccolta differenziata dell'organico che fanno i cittadini. Si chiama digestore anaerobico verde 70 ed è stato inaugurato all'impianto AISA di San Zeno. Da un qualcosa che prima si buttava via e si considerava come rifiuto proprio da allontanare prima possibile perché creava tutta una serie di problemi oggi si ricava quell'energia che tanto manca al paese perché il paese è assolutamente povero di infrastrutture. Si aggiunge così un nuovo tassello al progetto di riconversione dell'impianto AISA di San Zeno dove è stato inaugurato anche un osservatorio astronomico. Che va a rafforzare la formazione vuole essere di supporto proprio come polo scientifico di divulgazione per rafforzare la formazione delle materie scientifiche e matematiche di cui i ragazzi delle scuole hanno tanto bisogno. È una strumentazione molto evoluta è una strumentazione, diciamo, il nostro capo degli astrofili mi ha detto che corrisponde in piccolo a quello che ha la NASA io spero sia vero, ma credo comunque che sia una strumentazione all'avanguardia che va proprio nella direzione della divulgazione tecnico-scientifica perché è importante ed è importante anche conoscere questi impianti quindi un centro di divulgazione scientifica che è in una centrale di recupero totale a zero spreco e questo non è secondario perché qui l'energia che utilizziamo la autoproduciamo e il tutto si trova in un impianto strategico nazionale che va a fare della Toscana, perlomeno di questa parte della Toscana un'eccellenza del territorio. E in occasione della celebrazione del 79esimo anniversario dell'eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio del 29 giugno del 1944 che contò 244 vittime civili il comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con l'associazione Civitella Ricorda organizza una serie di iniziative in cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare il programma prevede proprio giovedì a partire dalle 8.30 il primo appuntamento alle 11 il vescovo Andrea Migliavacca della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro presiderà la celebrazione del rito religioso nella chiesa di Santa Maria Assunta a Civitella sabato 1 luglio alle 21.30 si terrà la fiaccolata della memoria organizzata dall'associazione Civitella Ricorda a cui seguirà la lettura di testimonianze dei sopravvissuti alla strage. E adesso parliamo di estate e di caldo perché la regione stila una serie di consigli per far fronte al caldo che è appena arrivato. Vediamo. Alla fine l'estate è arrivata e il termometro da alcuni giorni è stabilmente oltre i 30 gradi. Ecco che la regione indica un vademecum da seguire per prevenire gli effetti che le ondate di calore possono avere sulla salute delle persone in special modo quelle più anziane o fragili. Si suggeriscono così agli anziani i migliori orari della giornata in cui rinfrescare i locali dell'abitazione che sono le prime ore della mattina e non esagerare con l'aria condizionata per evitare bruschi sbalzi termici. Si invita a soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate e a lavarsi con acqua tiepida anziché fredda. Si raccomanda una costante idratazione e una corretta alimentazione leggera a base di frutta, verdura e pesce evitando alcol e caffeina. Nonché i migliori orari e abbigliamento per ripararsi dal caldo quando si esce. Cotone, lino e colori chiari preferibilmente senza dimenticare occhiali e cappello. Si consiglia di non uscire non spostarsi in auto nelle ore più calde dalle ore 11 alle 17 e di ventilare l'abitacolo dopo una lunga permanenza sotto il sole ma anche di portarsi un po' di acqua con sé utile in caso di code e rallentamenti oppure prima di fermarsi se l'auto è climatizzata di regolare la temperatura di circa 5 gradi inferiore a quella esterna. Sui farmaci si ricorda che vanno conservati lontano dalle fonti di calore e a meno di 30 gradi. Nel caso di terapie per la cura dell'ipertensione o malattie cardiovascolari l'invito è un controllo più assiduo della pressione arteriosa perché il caldo può potenziare l'effetto dei farmaci. Importante in ogni caso prima di qualsiasi decisione sulla terapia chiedere il parere del medico. Giovedì 29 giugno giornata ricca di eventi al Parco del Pionta a partire dalle 15 fino alle 20 da quasi un decennio si è costituito il Comitato Pionta composto da tante associazioni che si sono uniti per un obiettivo comune restituire il parco all'intera città come luogo vitale in cui possano convivere ed affermarsi momenti sanitari, sociali, culturali a tutela dell'ambiente. L'evento si celebra proprio il 29 di giugno perché in questa data si rievoca anche la chiusura del manicomio nel 1990 per il centro Franco Basaglia promotore dell'iniziativa ed ha sempre impegnato come sentinella attiva a combattere fenomeni di inclusione al fianco delle persone fragili. Ed è stata inaugurata nelle sale della Fortezza Medice alla mostra New Grass dell'artista irlandese Sean Shannon. Vediamo. Buon agosto. Dopo aver firmato assieme al maestro Francesco Conti la lancia d'oro della 143esima giostra del Saracino dedicata a Lucas Signorelli l'artista irlandese Sean Shannon ha presentato New Grass la mostra ospitata nelle sale della Fortezza. ho 63 anni mi sento dopo negli ultimi dieci anni ho preso una specie di dogma della pittura contemporanea e l'ho spezzato allora sto vivendo allora sto vivendo un momento di grande liberazione. Undici le installazioni in esposizione sino al prossimo 22 ottobre che si dispiegano negli spazi scenografici della Fortezza Medicea. Questa è un'arte del tutto particolare perché è un'arte grafica di pittura che però è vista attraverso i temi e i volumi della scultura. Anche lui quando è entrato in Fortezza per la prima volta si è innamorato di questo luogo e ci ha fatto capire come a seconda del posizionamento di queste opere queste opere cambiano carattere cambiano modo di porsi nei confronti di uno spettatore attento. Sono opere interessanti particolari che fanno parte di un suo percorso di ricerca che lui segue ormai da 30 anni anzi anche da 40 perché ha cominciato negli anni 80 e che oggi ne fanno un raffinatissimo veicolatore del colore e della forma quindi io sono veramente contento di ospitarla nella nostra nella nostra fortezza da tener conto anche che lui ha fatto un'opera appositamente per la fortezza che è New Grass che dà anche il nome alla mostra e che è stata fatta appositamente per questi luoghi. La mostra la prosegue anche nella sede dell'associazione culturale Le Nuove Stanze ad Arezzo. È un artista che indaga le possibilità della pittura ci fa vedere la pittura in una maniera nuova e addirittura ce la fa percepire pur non utilizzando a volte dei segni pittorici questo lo vediamo per esempio nella nostra sede quella delle Nuove Stanze dove ci sono delle opere su alluminio realizzate con degli spray con vernice comunemente delle macchine e dove l'effetto è quello appunto di un'indagine approfondita e assolutamente inedita sulle possibilità della pittura. Ancora un appuntamento ad Arezzo perché sale l'attesa per mercoledì giornata di apertura del Passioni Festival con un vero e proprio Italo Calvino Day a partire dalle 18 infatti è in programma una passeggiata letteraria tra i negozi del centro storico a cura di Rumor Bianco in collaborazione con Confcommercio Firenze Arezzo un evento unico speciale andato sold out nel giro di poche ore dedicato proprio ad Italo Calvino nel centenario della nascita un viaggio a tappe tra i negozi del centro insieme agli attori di Rumor Bianco che reciteranno alcuni passi tratti proprio dalle opere di Calvino e sale l'attesa per il primo grande ospite del festival si tratta di Paolo Endel che nella serata di mercoledì alle 21.30 salirà sul palco dell'Arena Eden con lo spettacolo Viola e il Barone sarà un divertente e magico viaggio tra le parole e il pensiero di Italo Calvino accompagnati dall'irresistibile simpatia del comico attore e commediografo Fiorentino che con questo spettacolo sta riscuotendo successo in giro per l'Italia e sabato a Castelsecco è tornata la seconda edizione della manifestazione I giochi dei nonni vediamo Il tiralafu nelle biglie il biliardino insomma i giochi dei tempi che furono sulla collina di Castelsecco è così tornata per la seconda edizione la manifestazione I giochi dei nonni recuperata sabato 24 giugno dopo che nelle scorse settimane era stata annullata a causa pioggia C'è stata anche una discreta partecipazione nonostante il periodo purtroppo abbiamo dovuto rinviare dalla data degli 10 che sarebbe stata sicuramente molto più partecipata però è veramente come si è potuto vedere è stata gradevolissima siamo stati veramente bene Un'iniziativa sulla collina che domina la città per il Calcit ma anche per valorizzare il sito archeologico Castelsecco diciamo che vuole essere un luogo di incontro e non soltanto fisico quindi ma anche diciamo dal punto di vista proprio anche culturale l'associazione tende a fare rete a coinvolgere come abbiamo fatto stasera dal Calcit all'Acli all'UISP agli scout del Cengei cioè noi tendiamo diciamo qui ad accogliere tutti e a fare delle cose che possano essere aperte a tutti Ancora un appuntamento culturale è l'ultimo concerto del periodo estivo della diciottesima stagione concertistica internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo si terrà giovedì 29 giugno alle ore 21 e avrà come protagonista il pianista canadese Kevin Chen stella luminosa della nuova generazione che guiderà la scena musicale mondiale dei prossimi decenni sempre giovedì ma alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione del rinnovato percorso museale della Casa Museo Ivan Bruschi che si intitola da potormo a fattori delle stanze dell'arte con opere della collezione Intesa San Paolo e adesso una notizia per la pagina sportiva è Paolo Artusi il primo abbonato della stagione sportiva 2023-2024 ben prima delle ore 16 quando si è aperta ufficialmente la prima fase della campagna abbonamenti non fartelo raccontare si era formata una discreta fila fuori dalla porta del point New Energy Gas e luce in via Madonna del Prato unico punto vendita fisico per questa prima fase del tesseramento annuale riservata ai vecchi abbonati vediamo il servizio L'attesa di essere qui abbondantemente prima delle 16 nel primo giorno di campagna abbonamenti è stata ripagata perché tra le sue mani vediamo il libro celebrativo di questa cavalcata firmato da da Settembrini ovviamente sono molto contento perché l'anno scorso mi sono divertito tanto Se l'aspettava di trovare comunque la fila e la risposta in questo modo? Sono venuto primo apposta sono venuto alle 3 e mezzo perché pensavo ci fosse un'infinità di gente quest'anno insomma visto gli andamenti dell'anno scorso spero e penso ci sia più abbonati E con questo è davvero tutto per la nostra pagina di informazione io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata Arrivederci grazie a tutti